E' un rito che nella sua semplicità rinnova l'affidamento a Maria in un tempo ancora irto di difficoltà. La festa della Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Moconesi ravviva la piccola comunità disposta lungo la strada 225 della Fontana Buona, radunando fedeli di diverse parrocchie attorno alla minuscola cappella dedicata alla Madre di Gesù. Un accostamento, quello con i fiori, non casuale come sottolineato dal parroco Don Guido Perazzo, nei ringraziamenti finali. Cogliendo appunto nella bellezza e nella gratuità del fiore tutto quello che appunto è dono, è gratuito, è bellezza che viene da Dio e che ci è data anche per essere condivisa fra noi. Come Maria porta Gesù, così Gesù porta a Dio raccontando con verità l'identità del Padre con parole e azioni. Così il Vescovo Giampio De Vasini per la prima volta a Pezzonasca per la festa patronale ha sottolineato la particolare circolarità esistente tra Dio Padre e il Figlio Gesù. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Gesù e nello stesso tempo soltanto il Padre può attrarci a Gesù. Chi crede in Gesù, ha spiegato il Vescovo, lo accoglie nella propria vita facendolo diventare un dono d'amore per gli altri. Credere in Gesù vuol dire comportarsi come lui si è comportato, quindi vuol dire mettere la propria vita a servizio degli altri, fare della propria vita un dono d'amore agli altri. Un amore preveniente, capace quindi di fare sempre il primo passo, un amore gratuito, quindi senza tornaconto, un amore smisurato, la cui misura cioè è l'assenza di misura, un amore fino all'ultimo respiro. Questo vuol dire credere in Gesù. E chi crede in Gesù in questo senso a vita eterna.